Buongiorno Davanti Davanti Abbiamo una missione? Sì, sì All'interno Siamo cumulati Facciamo una foto Assolutamente, sì Una foto, una foto Allora, ci possiamo mettere così Grazie 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 mille Io te lo faccio Grazie mille Grazie a tutti voi Abbiamo oggi una giornata Ci hai fatto aspettare al freddo Ci hai fatto aspettare al freddo?